Io auguro un augurio di buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i miei clienti e i futuri clienti di passare questo periodo natalizio alla grande, con la famiglia e con tutte le persone che gli stanno cari. Innanzitutto auguro ai miei clienti di rilassarsi questo periodo natalizio che è importante. Auguri.